E' stato distribuito nelle sale cinematografiche alla fine di novembre, mentre la casa di produzione Netflix lo ha diffuso in modalità streaming a partire dal 24 dicembre scorso, quindi fondamentalmente nella vigilia di Natale. E dato che questo video lo sto registrando nella settimana che avvicina al Capodanno del 2022, la mia rete di contatti in questo momento non fa altro che parlare di questo film. Ci sono vari motivi per farlo, adesso cercherò di rostrare per quale motivazione. Sto parlando del film di Adam McKay, Don't Look Up, che vede come protagonista Leonardo DiCaprio e potremmo dire, se mi passate la battuta, dato che si parla di una cometa in rotta di collisione con la terra e di un cast praticamente stellare, che va da Cate Blanchett fino a Jennifer Lawrence passando per Meryl Streep. Giusto per dire i primi nomi che mi vengono in mente. Allora, questa qua non sarà una recensione, quindi fondamentalmente non dirò se vale la pena vederlo o non vale la pena vederlo. Su questo vi lascio a tutti gli altri canali YouTube e social che già parlano di questo argomento. Ma io farò, diciamo così, quello che mi viene meglio, immagino che mi venga meglio, almeno lo spero fondamentalmente, che è quello di vedere quali sono i temi sociologici che questo film racconta e questo film esprime. E, diciamo la verità, ne esprime tanti, tantissimi. Infatti cercherò di utilizzare un trucco, diciamo così, di sintesi, utilizzando qualche modello analitico sociologico per cercare di ridurre l'infinita presenza di temi, tematiche, ragionamenti che sono presenti in questo film e che questo film fondamentalmente stimola. Quindi, avvertenza, non sono sicuro che farò degli spoiler, ecco, perché in realtà il film è tutto racchiuso nel suo trailer, fondamentalmente quello che è, c'è una cometa in rotta di collezione con la Terra e un gruppo di, questo in modo che di sensibilizzare prima la politica e poi le opinioni pubbliche. Quindi questa alla fine è la trama del film. Quindi in realtà da questo punto di vista non è precisamente uno spoiler, però in alcuni momenti del mio ragionamento entrerò in dei dettagli che tecnicamente non possono dirsi spoiler, però se siete appassionati di cinema e non volete assolutamente sapere nulla del film che state vedendo e quindi vederlo, come faccio io di solito, a cattola chiusa, quindi senza averne, senza saperne più di quanto non serva sapere, allora vi consiglio spassionatamente di vedere questo video una volta che avete visto il film. Invece se avete visto il film possiamo tranquillamente parlarne e spero fondamentalmente che questa mia riflessione vi possa interessare, vi possa incuriosire alla fine di questo, per questo mi piace fare questi video, per cercare di ragionare in alta voce su alcune cose che mi sono venute in mente e che mi hanno portato anche a fare una piccola analisi un po' più approfondita di quelli che sono alcuni elementi che sono presenti nel film. Allora cominciamo subito a dire una cosa, una, sul regista che è Adam McKay. Allora, io non sono un esperto di cinema, però Adam McKay l'ho incontrato in un film che io ho adorato completamente, che è la grande scommessa, The Big Short. Allora, in questo film, questo film, chi non lo ricordasse, praticamente la trama è la versione un po' romanzata, appunto c'è una della fette molto appetibile, molto, diciamo così, molto, anche con un taglio molto sincopato, di quali sono stati gli accadimenti che hanno portato alla famosa crisi dei mutui subprime tra il 2007 e il 2008, per intenderci quella che portò alla chiusura di Lehman Brothers. Film che io ho adorato non solo per come, diciamo così, per il tipo di racconto, perché sicuramente è molto bello, ma anche per come racconta i dati, cioè è uno dei pochi film che ci permette di toccare con mano quella che possiamo chiamare la società dei dati, dei numeri, delle statistiche, delle rilevazioni, appunto la Data Society. Quindi questo è uno dei motivi per cui Adam McKay già lo conoscevo. Molti fanno notare che anche il suo Vice, il film che si ispira alla vita e la vicenda di Dick Cheney, diciamo così, nel periodo che portò poi alla fine al crore delle Tori Gemelle, film che io, devo dire la verità, non ho visto, ma che a questo punto, cioè, due film ho visto di Adam McKay, mi sono poi già tutti e due, andrò a recuperare Vice. Dunque, Adam McKay è non solo il regista di questo film, ma anche lo sceneggiatore, e quindi, diciamo così, ha avuto anche la capacità di raccontare il clima che stiamo vivendo, il mondo contemporaneo praticamente degli ultimi dieci anni che stiamo vivendo con uno stile particolarmente interessante. Infatti non è un caso che la tagline del film sia basato su eventi reali che non sono ancora accaduti. Questo per dire appunto che per quanto è una commedia in salsa fantascientifica, comunque la sua credibilità e la sua affidabilità è molto alta. Piccolo inciso. L'Italia non è mai stata molto brava a produrre film sul cambiamento antropologico dovuto ai media digitali, tranne nelle commedie. Le commedie italiane, diciamo così, l'aggiornamento contemporaneo della commedia degli italiani, in realtà è stata bravissimo a raccontare il cambiamento antropologico dei media digitali. Penso per esempio a Perfetti Sconosciuti, che dal mio punto di vista è proprio il migliore esempio di come il telefonino e le app nel telefonino ci hanno cambiato proprio dal punto di vista antropologico. Chiuso la parentesi. Allora, di cosa racconta questo film? Allora, la trama credo che la sappiate tutti, ma io cercherò solamente di focalizzarmi su quegli elementi che servono a me per il mio ragionamento. Dunque, la trama racconta di una... il film si apre fondamentalmente con una scoperta scientifica da parte di una dottoranda interpretata, che è la Kate DiBiaschi, interpretata da Jennifer Lawrence, che scopre una nuova cometa. Per fare i calcoli, il suo professore di riferimento, il professore ordinario, come viene specificato durante la narrazione cinematografia, che è Randall Mindy, interpretato da ormai il sempre bravissimo, perché qualunque ruolo fa, lo fa sempre eccezionalmente Leonardo DiCaprio, nel fare questi calcoli per verificare la traiettoria di questa cometa, vengono a scoprire questa cometa e nel giro di sei mesi si troverà il rotto di collisione con la Terra. È una cometa di dimensioni piuttosto consistenti, quindi ovviamente è una cometa che è a rischio, che fondamentalmente porterà a rischio e estinzione la vita sulla Terra. Questo è il, diciamo così, il punto di partenza del film. Loro decideranno di, appunto, in maniera assolutamente responsabile di condividere questa scoperta con la comunità scientifica prima e poi con la politica, ma succederà una cosa che noi in altri film catastrofisti, tipo Armageddon o Deep Impact, in realtà non abbiamo visto. Cioè, fondamentalmente, nessuno prenderà veramente sul serio la minaccia rappresentata da questa cometa. Ecco, questo è il nocciolo del film. Cominciamo subito a delineare... Allora, fatevi fare una battuta. Dato che questo film, appunto, parla di comete, il cast è stellare. Ecco, praticamente, questa è la situazione. Ho rifatto la battuta di prima, vabbè. Ma la cosa interessante è che io mi concentrerò fondamentalmente su quegli elementi che io ritengo, non serò un panolone, idealtipici. Cioè, che secondo me rappresentano non solo lo scheletro narrativo della vicenda, ma anche servono a me come impalcatura argomentativa del tipo di analisi che mi appresto a fare. Quindi, diciamo così, non racconterò tutti i personaggi. Per esempio, c'è Ariana Grande che fa, appunto, una starletta televisiva, diciamo sì, molto superficiale, cosa che ovviamente Ariana Grande non è, è che ha un ruolo interessante, ci sono un sacco di parti. Il film è molto, molto ricco da vari punti di vista. Ma io mi concentrerò sugli elementi che ritengo strategici per la mia analisi. Allora, vediamo chi sono i personaggi principali. Dunque, Randall Mindy è appunto questo professore dell'Università del Michigan, questo astronomo dell'Università del Michigan, professore ordinario, interpretato da Leonardo Di Caprio. C'è la sua dottoranda, la sua collaboratrice, che è interpretata da Jennifer Lawrence. Il personaggio si chiama Kate Di Biaschi e quindi ovviamente la cometa verrà chiamata la cometa di Biaschi, ovviamente. Poi c'è una presidente donna che è praticamente un Trump in gonnella, che è la sempre bravissima Meryl Streep. Dopodiché c'è un altro personaggio che su cui io, diciamo così, manterrò un po' l'attenzione, perché non è un personaggio principale, che è appunto questo Peter Isherwell, che è il CEO di una società che si chiama Bush, che è una società appunto che si occupa di telefonia mobile, di intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, interpretato da Mark Rylance. E poi c'è una bravissima giornalista, diciamo così, una bravissima attrice, una giornalista più della classica, diciamo così, trasmissione del, i cosiddetti morning show, no? Le trasmissioni mattutine contenitore americane, per intenderci quelle che somigliano vagamente ai nostri vari uno mattina, eccetera, eccetera, che è interpretata da Cate Blanchett. Allora, questi sono gli elementi che io prenderò in considerazione. Allora, perché questo film vale la pena di essere visto? O comunque di essere, di diventare, perché ritengo che sia valga la pena di raccontarlo da un punto di sociologico? Perché un mix di politica alla Trump, diciamo così, conseguenze di una catastrofe globale come può essere la pandemia da Covid, a cui per oggi le reazioni sono o di negazionismo da parte di alcune fasce politiche o di scetticismo da parte dei vari cospirazionisti, nonché con la, si vedono anche la figura delle, degli scienziati superstar, no? Persone che magari erano conosciute ai media e poi salgono sulla, diciamo, sul carro dei media e diventano, e la varietà fondamentalmente li porta ad essere sempre sotto i riflettori. Ecco, questo mix, questa specie di, diciamo così, di put puriti frullato, lo rende, secondo me, un film assolutamente straordinario. Ripeto, la tagline, cioè il modo in cui è stato promosso, diciamo così, promozionato dal marketing è basato su eventi reali che non sono ancora accaduti, quindi questa, secondo me, è veramente la frase più interessante. Allora, cominciamo con una premessa. Allora, secondo me, perché racconto di questo film? Allora, la mia premessa è la seguente, la cometa è un fatto astronomico, quindi è un evento astronomico, che però si trasforma in un fatto sociale, primo passaggio, fatto sociale, che questo fatto sociale viene interpretato in maniera diversa, da diverse, in maniera diversa quanto il gioco di parole, da diverse comunità sociali. Ecco, quindi questa è la mia premessa, che mi aiuta nella mia analisi. Quindi fondamentalmente devo spiegare che cos'è un fatto sociale, quindi perché ho utilizzato questo termine, in che senso vengono attivate delle strategie di interpretazione da queste comunità e quali sono le comunità che si confrontano rispetto a questo evento astronomico. Allora, cominciamo subito a parlare del concetto di fatto sociale. Dunque, per i sociologi il concetto di fatto sociale è un concetto archetipico, è la prima cosa che ti fanno studiare quando fai sociologia, perché è stato sviluppato da il fondatore, uno dei padri fondatori della sociologia moderna, contemporanea, il lato empirico soprattutto, cosa che a me interessa molto, che è Emil Durkheim, che è un sociologo che è alsaziano, per intenderci all'Alsazia, quel posto che si trova tra la Francia e la Germania, quelle che ti fanno studiare sempre quando si parla delle guerre del 1870. è un sociologo alsaziano che ha, diciamo così, per prima ha elaborato gli strumenti concettuali della sociologia, di come la sociologia fosse una nuova scienza che avesse bisogno di strumenti concettuali. E soprattutto lui, in un suo famosissimo libro del 1895 che si chiama le regole del metodo sociologico, lui dice che che cos'è un fatto sociale, prendo la citazione per come l'ho trovata, che cos'è un fatto sociale, cosi sono i fatti sociali? Consistono in modi di agire, pensare, di sentire esterni all'individuo, eppure dotati di un potere di coercizione, in virtù al quale si impongono su di lui, con o senza il suo consenso. Quindi il fatto sociale è qualcosa che si impone all'individuo. Domanda, l'arrivo di una cometa in rotta di collisione sulla Terra è un fatto sociale, soprattutto è un fatto astronomico, ma diventa anche un fatto sociale, perché ovviamente le società umane devono confrontarsi con questo evento. Quindi questo è il primo passaggio. Tre sono gli elementi che da questa citazione si colgono, che sono le caratteristiche di un fatto sociale alla maniera durcaimiana, che sono la generalità, quindi che riguardano un po' tutti, la coercività, cioè che si impongono agli individui, e poi l'esternalità, che quindi non riguardano direttamente, non sono sotto il controllo direttamente delle persone. Allora, c'è da dire che Durkheim utilizza il concetto di fatto sociale per studiare qualcosa che all'epoca non sembrava un fatto sociale, cioè il suicidio. Durkheim polemicamente cerca di mostrare come il suicidio, oltre a quello fatto per motivi individualisti, ci sono dei suicidi fatti in quanto fatti, diciamo così, degli atti di suicidio che sono causati, anche se causati magari troppo forti sociologicamente parlando, però, sono causati dalla pressione sociale, il suicidio che lui chiamò tra le varie tipologie anomico, vabbè, questo è un'altra cosa. Questo vuol dire che Durkheim utilizza il concetto di fatto sociale per descrivere qualcosa che all'apparenza sembra molto individualistico e personale come il suicidio, e questo è un primo elemento. Quindi, la cometa è un fatto sociale in questo film? Sì, la cometa è un fatto sociale. Perché? Perché viene sottoposto, non è solamente un elemento astronomico, ma viene sottoposto al punto di vista e all'interpretazione da parte di diverse comunità sociali. E qua interviene un'altra teoria, diciamo così, qua mi avvarrò di un'altra teoria, una teoria di sociosemiotica, che si chiama il modello codifica-decodifica o, in inglese, encoding-decoding. Allora, che cos'è un modello sociosemiotico? Un modello che, diciamo così, attribuisce strategie interpretative da parte degli individui su base sociologica. Quindi, le caratteristiche sociali di una comunità, di una particolare comunità, un particolare individuo appartenente ad una comunità, elabora specifiche interpretazioni dei fenomeni che gli stanno intorno. E questo, in maniera molto schematica, è un modello sociosemiotico. L'autore di questo modello è Stuart Hall, uno dei, diciamo così, dei più importanti pensatori dell'area cultural studies, cioè degli studi culturali, cioè studiare la cultura contemporanea con gli stessi, diciamo così, con un po' stazione marxista, ma con degli strumenti anche, ovviamente, come è facile capire da questa modellistica di tipo semiotico. E una cosa interessante, molto interessante, dal mio punto di vista, è l'utilizzo di questo, del modello codifica decodifica a questa cometa, a questo fatto sociale, alla cometa considerato come fatto sociale. Stava diventando troppo buio, ho dovuto accendere una luce. Come passa il tempo quando uno si diverte? Vabbè. Allora, quindi, il modello encoding-decoding, fondamentalmente, è un modello sviluppato da Stuart Hall nel 1973, che è basato questo principio. I media sono degli strumenti che, elabco attraverso un linguaggio, codificano dei fatti, e questi fatti poi vengono decodificati dall'audience, dal pubblico dei media. Però questa codifica non è uno-uno, cioè nel senso il modo di raccontare dei media non viene recepito in maniera acritica da parte del pubblico, ma, dice Stuart Hall, noi possiamo assistere a tre diverse decodifiche. La decodifica dominante, in cui, diciamo così, sia i media che l'audience condividono lo stesso codice, quindi fondamentalmente vedono le stesse cose. La decodifica negoziata, in cui c'è un adattamento fra il messaggio che viene veicolato dai media e il tipo di interpretazione che viene messa in campo dalle audience, e poi la decodifica oppositiva. Decodifica oppositiva vuol dire fondamentalmente che le audience riconoscono il linguaggio con cui, il codice fondamentalmente, con cui i media veicolano un determinato messaggio, un determinata narrazione, però si oppongono con una controinterpretazione. Queste sono le tre tipologie di letture che noi troviamo nel modello codifica, decodifica, o in inglese encoding, decoding. Allora, prendendo in considerazione la cometa, questo fatto sociale che abbiamo visto essere generale, coercitivo ed esterno a questo mondo che viene raccontato nel film Don't Look Up. Come possiamo identificare queste tre decodifiche? Come appunto il modello encoding-decoding ci può aiutare a discernere i diversi modi con cui questo fenomeno viene interpretato. Allora, la prima decodifica, quindi la lettura dominante, è che la cometa ovviamente essendo un evento astronomico straordinariamente importante, straordinariamente, gioco di parole, impattante, ovviamente è qualcosa che viene interpretato come pericolo. Quindi in questo caso possiamo dire che il mondo della scienza, quindi la comunità scientifica, in questo caso rappresentato dagli astronomi di Capri e Lorenz che interpretano questo ruolo, fondamentalmente la cometa viene interpretata come pericolo, quindi abbiamo la dimensione del pericolo, quindi abbiamo la decodifica dominante. Poi abbiamo la decodifica negoziata. La decodifica negoziata vuol dire che la cometa è un pericolo, però può essere anche qualcos'altro un pericolo, nella fattispecie un'opportunità. E questo è quello che, dal mio punto di vista, è il tipo di interpretazione che viene data dall'apparato politico-industriale, quindi dal Trump in gonnella rappresentata da Meryl Streep e dal CEO di questa compagnia di telefoni sofisticata che è questa che si chiama Bush, questo CEO si chiama Isherwell, e che potremmo dire tranquillamente una versione tra la parodia e il grottesco dei vari CEO super ricchi del mondo tecnologico Nasdaq, quindi per intenderci una via di mezzo, fra Jeff Bezos, tanto per non fare nomi, Jeff Bezos e anche Elon Musk, fondamentalmente, anzi, forse più di Musk che di Bezos. Vabbè, comunque questo è un altro discorso. Quindi abbiamo una decodifica negoziata. È vero, la cometa può essere pericolata, poi può essere anche un'opportunità, perché ovviamente dalla politica verrà interpretata in questo senso e anche dal mondo di vita industriale. Per chi avesse visto il film sa che questo Trump in gonnella ha un problema di elezioni mid-term e quindi comincerà a cavalcare la questione della cometa, quindi di proteggere la terra dalla cometa, fondamentalmente i motivi politici, mentre il super CEO Isherwell l'opportunità è di tipo commerciale, perché i ricercatori scientifici della compagnia Bush hanno scoperto che questa cometa ha un sacco di materiali, di terre rare che potrebbero tornare utili per fabbricare i telefonini e le batterie, eccetera, la famosa questione della necessità di materie prime per fare le batterie. Quindi la decodifica da questo punto di vista negoziata che viene a essere messa in atto è quella dell'apparato politico-industriale che è quella della cometa come opportunità. Poi c'è la decodifica oppositiva. Oppositiva vuol dire che la cometa, sì è vero, è un pericolo, però può essere anche un enorme spettacolo, qualcosa che non solo è uno spettacolo, ma anche va spettacolarizzato. E qui ovviamente abbiamo i media, sia mass media rappresentata appunto da Kate Blanchett, che fa questa giornalista di queste trasmissioni televisive assolutamente cialiere, prive di contenuto dei morning show americani e non solo americani, in cui la cometa è semplicemente un modo per raccontare in maniera divertente quello che sta accadendo, ma anche dei social, perché i social che qui non sono particolarmente focalizzati, ma fungono da sfondo. I social in questo caso ovviamente con tutte le teorie cospirazioniste, la costruzione di meme legati alla cometa, che quindi viene semplicemente vista come un evento fra gli altri che deve essere semplicemente raccontato. Quindi se la cometa è un fatto sociale in maniera durcamiana, questo fatto sociale viene interpretato in tre modi diversi utilizzando il modello codifica e decodifica. Quindi codifica dominante o egemonico preferita, un altro dei nomi che si usa, tra l'altro egemonico è gramsciano, quindi si riconosce la tradizione marxista della sociosemiotica di Stuart Hall e di Calciola Stadis. Quindi decodifica dominante o egemonica, quindi la cometa come pericolo, fatta dal mondo della scienza. Decodifica negoziata, la cometa è una opportunità fatta dall'apparato politico-industriale. Decodifica oppositiva, non è un pericolo ma è uno spettacolo, che è questa la decodifica fatta fondamentalmente al mondo dei media. E questo è, diciamo così, tutti gli elementi che servono, diciamo sì, le varie scacchiere, le varie comunità sociali che come degli scacchi muovono dei pezzi e quindi ovviamente si relazionano l'uno con l'altro man mano che gli eventi cominciano a svilupparsi. C'è un'altra cosa che secondo me vale la pena di specificare, un'altra cosa che secondo me è interessante. Quali sono i rapporti tra le diverse comunità? Cioè una volta che abbiamo visto che sono tre le comunità in gioco, la comunità scientifica, l'apparato politico-industriale e i media, e quindi sullo sfondo anche tutte le persone, tutto il bario, il chiacchiericcio che c'è, dei vari canali, dei vari media, dei vari modi per raccontare la cometa, a un certo punto però possiamo capire anche che tipo di rapporti ci sono. Io mi sono accorto che dal punto di vista narrativo, se noi prendiamo in considerazione sono unicamente queste tre comunità, che appunto sono fondamentalmente quelle che servono per mettere in movimento il meccanismo narrativo del film di Adam McKay, appunto Don't Look Up, possiamo dire che ci sono anche diversi rapporti fra diverse comunità. Io ho identificato queste tipologie, poi magari qualcuno di voi che ha visto il film può darmi una mano anche a trovarne delle altre o anche dei vari elementi. Allora, prima di tutto il rapporto fra la scienza e l'apparato politico-industriale è una relazione di scontro, perché la scienza ha delle emergenze, quindi la cometa che sta arrivando, mentre l'apparato politico-industriale ha delle priorità completamente diverse e rispetto a queste priorità riutilizza la cometa rispetto alle proprie esigenze. E questo è il primo rapporto. Il secondo rapporto che possiamo identificare è quello tra l'apparato politico-industriale e i media. E qui ovviamente il tipo di rapporto è di cooperazione, cioè i media non fanno altro che fare proprio il punto di vista dell'apparato politico-industriale e l'apparato politico-industriale è un fatto che sfruttare i media per le proprie esigenze di propaganda e di comunicazione. Quindi questo è il secondo tipo di rapporto tra queste due comunità. Poi c'è l'ultimo tassello di questo ipotetico triangolo relazionale, quindi da un lato la scienza, l'apparato politico-industriale e i media, poi abbiamo il rapporto tra i media e la scienza. E qui il rapporto è di totale incomunicabilità. C'è una scena dal mio punto di vista iconica quando Leonardo Di Caprio, quindi il nostro astronomo e la sua dottoranda, la scopitrice della cometa, Jennifer Lawrence, vanno in questo morning show, in questa trasmissione televisiva della mattina e ovviamente sulle prime hanno bisogno di essere preparati, cioè devono utilizzare un linguaggio adatto sia al tipo di contenitori in cui si trovano sia al tipo di situazioni che devono raccontare. Se da un lato Leonardo Di Caprio cercherà di mantenere una specie di aplomb e quindi di nonostante prima abbia avuto un attacco di panico, Jennifer Lawrence invece a un certo punto vedendosi ironizzata e non presa sul serio dai giornalisti televisivi che prima di loro avevano dato delle notizie assolutamente di natura legate al gossip o al gossip politico come quello relativo al presidente Trump in gonnella, appunto Meryl Streep, fondamentalmente cosa fanno? Fondamentalmente loro, lei comincia a dare di matto e cerca di gridando, di dire ma questa è una cosa importante, ovviamente bisogna capire che è un pericolo per tutti noi, creando ovviamente nell'atmosfera rilassata di questo show, di questa specie di trasmissione giornalistica un po' di imbarazzo, nonché motivo per cui il personaggio di Jennifer Lawrence diventerà anche fonte di meme da tutti colori qua, non ho visto quella puntata, ecco questa secondo me è icolica per far capire come il rapporto fra media e scienza è un rapporto di sostanziale incommunicabilità, i media hanno un linguaggio, la scienza ne ha un altro, non solo, se la scienza fa troppo proprie il linguaggio dei media a un certo punto si diventa da ricercatori scientifici, da scienziati si diventa fondamentalmente a soggetti mediali, che è quello che succederà fondamentalmente a Leonardo Di Caprio, cioè dimenticherà il motivo per cui ha dovuto cominciare ad attivare l'attenzione nei confronti della comunità della propria pubblica, della comunità scientifica ma anche della politica e diventerà fondamentalmente una, diciamo così, si lascerà che la sua vanità prenda il sopravvento con tutte le conseguenze del caso. Questo un po' racconta anche come molto spesso quando il ricercatore scientifico è troppo sotto le lenti dei media rischia di dimenticare quelle che sono le norme deontologiche della professione di cui fa parte e questo dipende da tutti coloro i quali, anche io nel mio piccolo, ci occupiamo, cerchiamo di andare nei media per cercare di raccontare il lavoro che facciamo, però spesso i media tendono ad essere fagocitanti e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Allora, questo è il mio punto di vista, quindi di cosa parla questo film? Parla di una cometa che è in rotta di collisione sulla Terra, però ti dice fondamentalmente il mondo in cui stiamo vivendo, in cui la politica è diventata sempre più spregiudicata, i media sono diventati sempre più vanesi, i social media non fanno altro che gran cassa di questa, diciamo che sono la controparte dei mass media, non fanno altro che rimpolpare questa voglia di mettersi in scena, e il mondo della scienza che cerca fondamentalmente di balcabenarsi su poteri che non riesce a gestire perché ormai ha perso legittimità da questo punto di vista. Da un lato l'opinione pubblica è prestata ai media e dall'altro la politica rispetto alla consulenza del potere. Ecco, questa fondamentalmente è la storia. Si trovano tutti gli infiniti rivoli con cui questo tipo di rapporto può essere declinato. Perché va visto questo film? Questo film va visto perché è la perfetta sintesi del periodo che stiamo passando. Abbiamo un pericolo al mondo che si chiama pandemia da Covid-19 e c'è una politica che non sempre riesce a dare le risposte necessarie e soprattutto c'è una società che anche attraverso i mass media e social media cerca di elaborare delle strategie di rimozione di questo problema, strategie di rimozione che passano dalla critica sociale al cospirazionismo. Quindi è la perfetta sintesi del periodo in cui stiamo vivendo. Questo secondo me lo rende un film iconico, cioè un film che quando noi vorremmo guardarci indietro e capire il periodo che abbiamo passato non potremmo non prenderlo in considerazione come enorme metafora del contemporaneo con tutti i pro e i contro. E la cosa interessante è che un film alla fine è una commedia, una commedia in salsa fantascientifica. Per chi di voi lo ha visto, state cosa sto facendo riferimento, per chi ancora non l'avesse visto, grazie alla mia descrizione un po' criptica, non credo che abbia capito moltissimo di come si sviluppa la trama. Consiglio di aspettare la fine dei titoli di Coda perché ci sono un sacco di finali in questo film, uno più cattivo dell'altro. Ecco, mi è enorme soddisfazione perché io adoro i film che hanno una controparte cinica e una controparte sarcastica fino a diventare grottesca. Proprio a proposito del grottesco mi è venuta in mente una cosa. Il film inizia con una, non solo con una citazione di Carl Sagan, ma anche con mostrare un pupazzetto di Carl Sagan. A un certo punto DiCaprio dice cosa, perfetto, la nostra dottoranda ha scoperto un nuovo oggetto celeste, una cometa. Cosa avrebbe fatto il nostro Carl Sagan, anzi Carl Sagan come dice nel doppiaggio italiano, io l'ho sempre conosciuto come Sagan quindi spero non sia un problema che lo pronuncia l'italiano. Ecco si comincia, è l'agro, avrebbe fatto dei calcoli eccetera eccetera. Allora, chi è Carl Sagan? Dunque Carl Sagan è stato il più grande divulgatore scientifico americano morto, se non ricordo male, all'inizio del 2000, non vorrei sbagliarmi, comunque su wikipedia trovi i dettagli. Anche lui era un astronomo, per i tetici Carl Sagan è quello che ha inventato il progetto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, un progetto della NASA il cui scopo è quello di trovare segnali di eventuali civiltà intelligenti che si trovano al di fuori del sistema solare. Carl Sagan però, oltre ad essere un divulgatore eccezionale, ha fatto un sacco di libri interessanti, quello che mi ricordo io è Il mondo, quello che ho letto io è Il mondo infestato dai demoni, un libro del 96 in cui lui fondamentalmente racconta come stavano tornando, 96, stavano tornando fondamentalmente delle tendenze antiscientifiche nella società americana, quindi questo libro la dice un po' lunga. Però lui è anche autore di un romanzo uscito nel 1985 che si chiama Contact. Tutti gli appassionati di fantascienza sanno che da questo romanzo di Carl Sagan è stato tratto un film nel 1997 di Robert Zemeckis che si chiama Contact. Di cosa racconta questo film? Contact vuol dire fondamentalmente il primo contatto. Questo film racconta di una scienziata che si chiama Haley Haraway, nel film è interpretata da Jodie Foster, che intercetta questo messaggio di una civiltà extraterrestre, quindi intelligente, che mandava questo tipo di messaggio e a un certo punto si rivolge prima alla comunità scientifica, poi alla politica per cercare di capire come procedere, quindi come attivarsi. In questo film c'è anche un personaggio interessante che è quello di Matthew McCogany che interpreta Joss Palmer, questo teologo che diventa amico, prima ha un flirt e poi diventa amico della scienziata Jodie Foster, e poi c'è anche un, diciamo così, oltre alla politica che ha sempre il suo ruolo, soprattutto l'apparato militare, più che l'apparato politico del Presidente degli Stati Uniti, più la, perché ovviamente gli alieni sono un problema militare, perché potrebbero avere, diciamo così, degli scopi bellici, quindi poco pacifici appunto, e però chi tira le file appunto, chi sostiene la voglia della dottoressa Jodie Foster di volersi relazionare, capire cosa vogliono questi alieni, è un misterioso magnate dell'industria che si chiama Hadden e che è interpretato da John Hart. Come avete visto ci sono gli stessi soggetti in questo contatto con gli alieni che abbiamo visto nel film di Adam McKay, Don't Look Up, quindi l'apparato militare, diciamo l'apparato politico, l'apparato scientifico e l'apparato anche mediale, che anche nel film, diciamo sì, di Zemeckis Contact è meno, è presente, ma diciamo sì meno visibile. Quindi al mio punto di vista, il fatto che ci sia una citazione di Carl Sagan all'inizio del film, non è casuale, oltre al fatto che Carl Sagan, permettetemi, Mutatis Mutandis è un po' il Piero Angela della divulgazione americana, anche se sarebbe più corretto di dire il contrario, che è Piero Angela il Carl Sagan italiano, o comunque sono due modi diversi di fare comunque divulgazioni di altissimo livello e con la massima di ontologia scientifica, questo non bisogna dimenticarlo. E quindi dal mio punto di vista, la citazione di Sagan è dovuta al fatto che in realtà il film Don't Look Up si presenta con una versione grottesca, ma sostanzialmente narrativamente molto simile al film e al libro Contact, che è stato portato al cinema nel 1997 da Robert Zemeckis. E questa è la cosa, diciamo così, più curiosa che posso raccontarvi, forse anche un po' più originale rispetto ad altre cose che troverete negli altri video. Allora, quindi perché vedere questo film? Perché questo film fondamentalmente esprime lo spirito dei tempi, questo zeitgeist, cioè viviamo in un mondo saturo di media. In questo mondo saturo di media fondamentalmente abbiamo perso di vista l'orizzonte e perdendo di vista l'orizzonte, non guardando più sopra di noi, non ci stiamo accorgendo che sta arrivando una cometa che ci distruggerà completamente. E questa è un po' la sintesi, secondo me questo film vale la pena per essere visto, ma anche per gli infinite sottotrame che si trovano, per le battute che si trovano sul nostro rapporto con la tecnologia, con gli algoritmi che prevedono la morte, con questi magnati del Nasdaq che sembrano animati da una specie di voglia di salvare l'universo quando in realtà stanno facendo semplicemente i propri affari economici eccetera eccetera eccetera, risparmio tutti gli infiniti modi con cui è possibile vedere questo film. Questo è quanto, spero di non essere stato eccessivamente noioso e soprattutto vi chiedo la cortesia, se vedete questo film e se avete visto anche questo mio video lasciatemi dei commenti, sono molto curioso dal vostro punto di vista, cioè parliamone un attimo perché voglio confrontarmi, questo film mi è piaciuto molto, non sto facendo un giudizio estetico, sto facendo un punto di vista narrativo sociologico chiamiamolo in questo modo un po' strano, però mi piacerebbe confrontarmi con voi su queste cose perché secondo me ne vale la pena, tutto in maniera molto banale. Vi lascio con una domanda però che a me durante il film mi ha, diciamo così, mi ha stuzzicato più di una volta. Allora, questo film è un enorme metafora della situazione sul covid, politica, media, social media, giornalismo eccetera eccetera. Domanda, se questo film fosse stato ambientato in Italia e quindi magari in questo caso i scienziati fossero italiani, i media fossero italiani, la politica fosse italiana. Chi sarebbero stati i corrispettivi dei personaggi? Facciamo conto che, facciamo conto che ho fatto questa domanda ma giusto per stuzzicare un po' la vostra, la vostra fantasia. Grazie per la pazienza che avete avuto di ascoltarmi fino adesso, vedendo scherzando sono passati una quarantina di minuti, quindi spero che siate sopravvissuti a questo mio profluvio di parole, però mi piacere, diciamo così, parlare in alta voce di questo film che lo tengo molto interessato. Grazie ancora, faccio come fanno i youtuber quelli propri professionali, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale e mettetevi un like, comunque nella peggiore dell'ipotesi commentate, cioè se vi capita questo video e se avete qualcosa di, qualche suggerimento, qualche vostra osservazione fatemela perché a me piace moltissimo. Mettetela nei commenti, in qualunque social troverete questa indicazione e grazie ancora della vostra attenzione e guardate questo film che secondo me ne vale veramente la pena.